Ciao, sono Veronica, ho frequentato quattro anni di CFP Lonati, adesso sto proseguendo con il percorso di FTS che è sempre l'erente al turismo e organizzazione eventi. Il mio primo stage è stato presso Villa Fenaroli a Brescia, ho eseguito le mansioni di check-in, live-in e check-out, l'assistenza e accoglienza del cliente, mi ha sostenuto la mia tutor di stage, Manessa, che mi ha aiutato nel mio percorso. Un'altra esperienza che ho fatto è stata presso Villas Resort in Sardegna Costa Rei e anche lì ho potuto svolgere comunque mansioni di assistenza per i clienti, il check-in, live-in e check-out e mi sono potuta anche approcciare con i clienti stranieri, quindi ho sviluppato anche la lingua inglese. Anche se inizio molto timorosa ho fatto anche qualche figuraccia però poi è andato tutto bene, sono sempre stata sostenuta dalla mia tutor, mi sono potuta aprire un sacco, mi ha aiutata tantissimo, sono cambiata veramente tanto caratterialmente. Dalla ragazza insicura che ero, ora sono diventata molto più sicura di me stessa e sono felice.